questo video si apre un po così in maniera in maniera un po non conforme a tutti gli altri io volevo fare i miei più sinceri complimenti innanzitutto ma soprattutto ringraziamenti a davide il ragazzo che edita monta l'artefice veramente della magia al computer di tutti questi di tutti questi video io raga sapete non me lo conoscete forse un po su instagram l'avete imparato a conoscere ma soprattutto anche qua io reputo davide una persona assolutamente squisita ma soprattutto un genio del computer un mago ma la cosa più impressionante che io comunque non so fare nulla tutto quello che vedete su su youtube lo fa tutto lui la cosa che mi sta impressionando di più il fatto che gli ho dato forse 90 video da editare ormai lo sapete raga perché state vedendo video un pochettino mischiati con proprio miscelati mix un pochettino con quelli a crotone un po con questi in germania quindi ormai l'avete capito raga l'amore di lavoro è stata tanta l'ho detto in un video perché sapevo che non c'avevo molto molto tempo a disposizione io l'ho dato a lui gli ho detto senti fai il possibile fai il possibile e lui mi ha detto va bene giù farò quello che riesco bene il risultato lo state vedendo è fenomenale grazie davide adesso io mentre vado a registrare un altro video ci vediamo tra poco in un altro video e niente vi lascio un saluto non ve ne andate perché appunto c'è il video saluto tipo di sport e benvenuti in questo nuovo video sono nel parco dell'altra volta fondamentale bene sentite che sono all'aperto mi trovo praticamente in un piccolo boschetto se così si può definire allora l'ultima volta che ci siamo trovati comunque in questo in questo parco io cammino sempre guardando in giù perché c'è veramente qua c'è addirittura un tronco tagliato un albero tagliato l'altro giorno abbiamo parlato in questo in questo format che è lo stesso degli altri solo che ho cambiato location per registrare infatti vede che le luci sono un po più strane perché devo sfruttare la luce del sole che un po c'è un po no ma mi piace dare questo dinamismo di regia così vabbè comunque abbiamo parlato con quattro volte del riscaldamento del perché e quant'altro se mi sono dimenticato qualcosa ragazzi di dire qualcosa è perché camminare parlare reggere la fotocamera stare attento anche a chi ti sta intorno perché qua vengono vengono persone con i cani vengono persone a correre con le biciclette vengono con i passeggini quindi lo so e sembra deserto e lo è per carità perché una zona di verde abbastanza non sperduto assolutamente no perché in pieno in pieno centro però insomma capitemi raga se mi sono dimenticato qualcosa chiedo scusa ditemelo nei commenti così poi posso riprendere l'argomento e posso spiegarvi meglio quello che magari mi sono dimenticato comunque parlavamo io qualche video fa dissi non so se uscirà prima o dopo questo video secondo me prima vabbè comunque dissi che instagram è un covo non mi ricordo come lo definì comunque di di gente insomma instagram da voce proprio a tutti di parlare che di base instagram come facebook come tutti i social che di base è buono perché comunque ognuno può dire la sua il problema è quando c'è gente che pubblica video consigli nutrizionali quando non dovrebbe consigli di allenamento quando non dovrebbe ma soprattutto questi consigli questo queste cose sono assolutamente sbagliate perché perché dando uno strumento così chiedo scusa particolare in mano di ignoranti non solo la cultura fa fatica a comunque a dilagare comunque perché c'è chi veramente se ne intende vuole vuole dire la sua e fa fatica a trovare spazio in mezzo a gente che fondamentalmente non capisce nulla ma soprattutto cosa fa blocca e aumenta le false speranze di gente che per esempio ha le prime armi con l'allenamento mi spiego meglio se io faccio un video in cui dico la mia e magari basato su comunque nozioni scientifiche e quant'altro che succede il mio video non viene visto da nessuno se io dico ragazzi io sono natural fate questa scheda magari mi dopo come un cavallo fate questa scheda che crescete magari è sbagliatissimo quel video raggiunge subito va in tendenza su youtube su instagram eccetera eccetera perché perché giustamente la gente non vuole sentirsi dire il metodo scientifico vuole sentirsi dire che cosa fai così che cresci e magari quella quasi assolutamente sbagliata in sindesi il video era questo comunque andatevelo a beccare ragazzi non so se è uscito o uscirà comunque andatevelo a vedere perché è molto e molto interessante e oggi invece voglio dire una cosa ho parlato di alcune pagine come pagine di persone che studiano chimica e della nutrizione pagine di kinesiologi pagine di osteopati di fisioterapisti pagine di dottori che sono molto interessanti non sto qua a citarle ragazzi perché qualcuno se conosciuto il mondo di youtube soprattutto in questo senso capite di a chi mi sto riferendo ma sono molto interessanti perché parlano della metodica scientifica parlano di quello che effettivamente è l'allenamento di quello che effettivamente è la chimica di una di della nutrizione di quello che deve essere un movimento corretto una tecnica corretta e che grado anche di intensità e a livello articolare e questo insomma cade nella parte positiva di facebook di instagram no i social ogni tanto ci azzeccano ma non sono i social che ci azzeccano no e gente che come me come tanti altri ha studiato vuole propagare comunque una un'area di cultura vuole far crescere questa queste nozioni ok e screditando quelle persone che illudono i poveri ragazzini dicendo che con un'ora di allenamento due volte a settimana e si ottengono dei risultati da olimpia ecco queste sono cazzate ragazzi spero che vi siano chiare però purtroppo queste persone vengono seguiti da milioni e milioni di persone comunque ragazzi quello che vi voglio dire è semplicemente che ogni tanto instagram c'è l'altro giorno ho visto dei colleghi naturalmente colleghi in senso sia sportivo che lavorativo perché erano pure loro dei kinesiologi che presentavano delle tabelle proprio base 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 ragazzi nel senso dai 1 2 secondi da 1 a 5 secondi si sfrutta questo metabolismo da 10 secondi ai 15 20 si sfrutta quest'altro poi quindi proprio base 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 e spiegavano il motivo per cui si sfrutta più un metabolismo più un altro o più un altro ancora ok e questo è questo quello che quando mi riferisco a ogni tanto i social ci azzeccano non sono i social che ci azzeccano ma tanto le persone che ci lavorano e soprattutto anche l'utenza che deve essere in grado di capire un qualcosa di farlocco ok si è attaccato un ramo al piede ok qualcosa di farlocco di qualcosa che effettivamente è una bugia se così la possiamo definire è qualcosa che effettivamente si basa sul metodo scientifico ok ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto questo tipo di video un pochettino dinamici ripeto outdoor vedete sono in questo parchetto magnifico sono con uno sciarpe e cappello raga perché fa freddissimo a parte che c'è i capelli che sono uno schifo e la barba pure vabbè non me la faccio vedere che se non casino di metterla dentro voi dei ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e la regia qua è un po più dinamica perché mi muovo e mi muovo tutto e quindi ragazzi io vi lascio un buon allenamento da in sport a ecco qua come al solito mi dimenticavo sempre di dire che abbiamo le pagine instagram e facebook quindi andate in punto sport punto fit cosa che l'altro scopo l'altro video mi sono dimenticato di dire andate a seguirci anche la fateci sapere la vostra sotto nei commenti e insomma supportateci ok buon allenamento da in sport ciao